E' da quando sono qui che rimedio ai tuoi misfatti? Che magnifico caos! Sono morte delle persone! Io non ho ucciso nessuno! Il fatto che me... Kyung! Sono colpito! Non c'è! Farò giustizia! Che la sua ira scenda su entrambi! Gallicaro! Attacca! Gallicaro! Avaga! Ci darò un pasto a Itero. Schifoso uccidraccio. Orso? Orso? Oh, guile! E' da' 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 ira! Liar! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.